allora mister una vittoria si diceva prima fa sempre morale sarebbe altro al di là del gioco per dire che si è visto a sprazzi un buon soverato anche se c'è stato un pochettino nel secondo tempo c'è stato un rimonte loro però tutto fa sperare bene perché si vede che più o meno la squadra c'è e pensiamo al futuro ma l'unica cosa positiva è che hanno lottato ecco fino fino alla fine non mollando mai su ogni palla anche se devo dire insomma che loro hanno preso il predominio e non siamo quasi mai riusciti insomma a uscire fuori con tranquillità abbiamo avuto sì su un paio di punizioni abbiamo preso un palo e una traversa diciamo però dobbiamo dobbiamo ovvio lavorare di più anche perché sono è solo un mese che questa squadra è stata rifatta e quindi poi c'è anche qualche ragazzo che sta giocando fuori ruolo purtroppo sai un conto è partire dall'inizio che si parte dall'estate un conto invece è trovarti a metà campionato con a rifare completamente tutta la squadra comunque meno male che sono venuti lo stesso questi tre punti anche se non meritati perché loro meritavano almeno il pari lo meritavano sinceramente però per noi speriamo facciano morale lavoreremo sul campo ci tenevo a dire una cosa sola che io e Ragneri si siamo venuti qui a dare una mano abbiamo cercato di rifare la squadra però stiamo cercando anche qualcuno che ci dia una mano con qualche sponsor perché effettivamente insomma il presidente è un po da solo e noi stiamo lavorando praticamente così non è che chiediamo soldi noi voglio dire però per mantenere i ragazzi le trasferte e tante altre cose insomma che qualcuno ci dia una mano io mi rivolgo anche a all'amministrazione comunale diciamo che che sinceramente è la squadra del soverato stiamo cercando di rilanciarla che ci diano una mano effettivamente non è che chiediamo la luna ma un qualcosino un qualche contributo un contributo ci farebbe molto ma molto comodo quindi mister ci dà quindi non ha niente da ricominare contro i suoi oggi abbiamo visto una una partita purtroppo abbiamo giocato con un con un'altra squadra che aveva bisogno di punti si è vista una bella squadra al secondo tempo la sua no veramente ho visto senza vena di polemica perché solitamente io non parlo però abbiamo visto un pessimo arbitro ma non per non per polemizzare ci mancherebbe sul rigore su altro però un arbitro che dopo mezz'ora con un giocatore ammonito arriva a centrocampo su un fallaccio perché eravamo su una ripartenza col cartellino in mano e lo rimette a posto vuol dire che mi dispiace io non credo nella mala fede perché ho una figlia anche arbitro però questo è malavere perché è arrivato qui prevenuto con c'è il bivongi e purtroppo siccome è la seconda volta che lo incontriamo mi dispiace dire questo e me ne assumo la responsabilità di quello che dico perché sanno tutti che sono abituato a dire quello che penso ancora dopo quasi due mesi perché questo signore ci ha arbitrato a meleto dopo quasi due mesi ancora non sa che sul calcio d'angolo l'avversario deve stare a 9 metri e 15 quindi questa è una pecca della dirigenza degli arbitri adesso